Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova video lezione di matematica. Oggi vorrei presentarvi le divisioni in riga. La divisione è un'operazione che ci permette di capire quante volte un numero è contenuto all'interno di un numero più grande. Vi chiedo di guardare attentamente l'immagine proiettata sul vostro schermo. Sono certa che tanti di voi l'abbiano riconosciuta. Infatti abbiamo utilizzato questa immagine per scoprire insieme la divisione per raggruppamento. Abbiamo raggruppato 28 bambini in squadre da 7 bambini ciascuna e abbiamo formato ben 4 gruppi. Questa rappresentazione ci aiuta a capire quante volte il numero 7 è contenuto nel 28 o meglio quante volte il numero di bambini per ciascuna squadra è contenuto nel numero totale di bambini. Abbiamo scoperto insieme che il 7 è contenuto nel 28 ben 4 volte perché siamo riusciti a formare ben 4 gruppi. Poi insieme abbiamo scritto in modo matematico questa rappresentazione ovvero l'abbiamo trascritta attraverso un'operazione. La vediamo insieme. Quindi abbiamo preso i 28 bambini e li abbiamo divisi in gruppi da 7 bambini ciascuno fino ad ottenere 4 gruppi. Quindi tradotto in matematico abbiamo semplicemente fatto 28 diviso 7 che dà come risultato 4. La moltiplicazione e la divisione sono molto connesse tra loro. Infatti senza dover fare dei disegni o senza dover raggruppare possiamo capire se effettivamente il risultato trovato ovvero questo 4 è corretto oppure no facendo una sorta di prova. E quindi a tal proposito entra in gioco la moltiplicazione. Vi chiedo di pensare al numero di bambini per ciascuna squadra ovvero 7 e vi chiedo di pensare quante volte il numero 7 è comparso nell'immagine che abbiamo visto poco fa. È comparso per ben 4 volte perché in ogni gruppo ovvero nei 4 gruppi c'erano proprio 7 bambini. Quindi in sostanza potremmo dire che 7 per 4 ovvero il numero di bambini moltiplicato per il numero di gruppi dà come risultato il numero totale di bambini che avevamo a disposizione all'inizio della nostra operazione. Quindi la moltiplicazione e la divisione sono connesse tra loro. Questo perché? Perché l'operazione della divisione che abbiamo svolto ovvero 28 diviso 7 uguale 4 siamo certi che sia giusta perché se moltiplichiamo il numero di bambini presenti in ogni gruppo per il numero totale dei gruppi ci rendiamo conto che otteniamo lo stesso numero di bambini totali che avevamo all'inizio e quindi significa che abbiamo svolto correttamente i calcoli. Ora proviamo a risolvere insieme una divisione aiutandoci con le nostre amate tabelline perché sì possiamo risolvere una divisione senza dover disegnare nulla. Proviamo insieme. Il problema dice Luca possiede 12 palline gialle e vuole formare gruppi da 4 palline ciascuno. Quanti gruppi forma? Quindi in sostanza dobbiamo dividere 12 per 4 quindi fare 12 diviso 4. Come possiamo capire qual è il risultato senza disegnare niente? Dobbiamo semplicemente chiederci quante volte il 4 è contenuto nel 12 e lo possiamo scoprire utilizzando le tabelline o meglio la numerazione delle tabelline. Proviamo infatti a sfruttare la tabellina del 4. È come se in questa operazione comandasse il numero 4. Eccolo qui. Noi infatti ci affidiamo proprio a questa tabellina. Proviamo insieme a contare sulle dita la numerazione del 4 fino a trovare il numero 12. Proviamo insieme. 4 per 1 4 quindi sul primo dito abbiamo il numero 4. Proseguiamo. 4 8 perché 4 per 2 fa 8 e poi arriviamo a 12. 4 per 3 12. Quindi abbiamo trovato quel numero tale per cui il 4 è contenuto nel 12 e il numero è il 3. Il 4 infatti è contenuto 3 volte nel 12. Quindi ripetiamo. Perché il 4 è contenuto 3 volte nel 12? Perché se pronuncio la numerazione del 4 alla ricerca del numero 12 alzo ben 3 dita e quindi arrivo a 4 per 3 che ovviamente dà come risultato 12. Quindi possiamo dire che 12 diviso 4 fa proprio 3. Proviamo però a vedere in modo grafico se davvero il risultato dell'operazione è corretto. Quindi proviamo a disegnare 12 palline gialle che sono quelle che avevamo nel problema e proviamo a raggrupparle per gruppi di 4 palline ciascuno. Quindi vediamo quanti gruppi riusciamo a formare. Quindi ogni 4 palline tracciamo un riquadro. Quindi abbiamo formato un gruppo, secondo gruppo, terzo gruppo. Ogni gruppo contiene siamo riusciti a creare ben 4 palline. Infatti abbiamo diviso il 12 per 4. Il risultato è 3 ovvero siamo riusciti a creare ben 3 gruppi. Questo vuol dire che prima quando abbiamo risolto con la moltiplicazione o meglio con le tabelline questa divisione abbiamo ottenuto un risultato corretto. ora vediamo insieme come si chiamano i diversi termini che compongono una divisione. Vediamoli insieme. Il primo numero potremmo definirlo in questo caso il numero più grande ovvero 12. Il numero totale delle palline si chiama semplicemente dividendo. Poi abbiamo il diviso ovvero il segno dell'operazione della divisione e poi troviamo un altro numero che è il numero più piccolo. In questo caso il numero 4 che chiamiamo divisore. Il divisore è fondamentale perché all'interno della divisione ci dice quale tabellina dobbiamo utilizzare per poterla risolvere. Quindi in questo caso per risolvere 12 diviso 4 dobbiamo utilizzare la tabellina del 4 per cercare il numero 12 e capire quante volte il 4 è contenuto nel 12. Poi abbiamo ovviamente il simbolo dell'uguale e poi il risultato della nostra operazione ovvero in questo caso 3 che si chiama semplicemente quoto. Mi raccomando cercate di memorizzare questi termini. Ora proviamo insieme a risolvere qualche divisione aiutandoci con la numerazione delle tabelline e soprattutto con le dita. Mi raccomando è molto importante che anche voi proviate ad alzare le dita. Proviamo a risolvere 18 diviso 6. Abbiamo detto che il 18 si chiama dividendo, che il 6 si chiama divisore e che andremo alla ricerca di un quoto ovvero di un risultato. Abbiamo anche detto che qui a comandare è proprio il numero 6. Infatti noi dovremo utilizzare la tabellina del 6 per capire quante volte questo numero è contenuto nel 18. Quindi pronti insieme a me alziamo il pollice e diciamo 6. Andiamo avanti con la tabellina. Quindi alziamo l'indice e diciamo 12. Poi alziamo il medio e diciamo 18. Infatti il 6 è contenuto nel 18 per ben 3 volte e quindi il risultato di questa divisione è semplicemente 3. Proviamo a fare una prova. Vediamo se davvero abbiamo trovato il risultato corretto. Per fare la prova dovete moltiplicare il quoto ovvero 3 per il nostro divisore ovvero 6 e vedere se come risultato troviamo il 18 ovvero quello che abbiamo definito dividendo. 3 per 6 fa 18? Assolutamente sì! Quindi l'operazione è corretta. Proviamo a farne un'altra insieme. Dobbiamo dividere 24 per 4 quindi 24 diviso 4. Ricordiamoci il nome di ogni termine. Il 24 si chiama dividendo, il numero 4 invece si chiama divisore. A comandare è il numero 4 e dobbiamo vedere quante volte è contenuto nel 24. Ovviamente utilizziamo la tabellina del 4 o meglio la sua numerazione e andiamo a cercare il numero 24. Proviamo insieme. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Quindi sono arrivata a 6 per 4 che fa 24. Questo significa che il 4 è contenuto nel 24 ben 6 volte. Facciamo una prova come prima. Per capire se abbiamo trovato il risultato corretto dobbiamo moltiplicare il 6 per il nostro divisore ovvero 4 e dobbiamo ottenere come risultato il dividendo ovvero 24 e lo otteniamo perché 6 per 4 fa proprio 24. Proseguiamo, facciamo un altro esempio insieme. 35 diviso 7. Dobbiamo capire quante volte il numero 7 ovvero il nostro divisore è contenuto nel dividendo ovvero nel 35. Abbiamo detto che utilizzato che utilizziamo la tabellina del 7 e proviamo insieme. 7 per 1, 7, 7 per 2, 14, 7 per 3, 21, 7 per 4, 28, 7 per 5, 35. Quindi abbiamo scoperto che il 7 è contenuto nel 35 per ben 5 volte. Proviamo a fare una prova insieme. quindi ricordiamoci come si fa insieme. Quindi ricordiamoci come si fa la prova per capire se abbiamo svolto correttamente i calcoli. Prendiamo il nostro risultato in questo caso il 5 e lo moltiplichiamo per il divisore ovvero 7. Se otteniamo come risultato il dividendo ovvero 35 significa che abbiamo svolto il 5 per 7 fa proprio 35. Mi raccomando negli esercizi che avete per casa dovete proprio svolgerli in questo modo ovvero dovete chiedervi quante volte il divisore è contenuto nel dividendo e dovete utilizzare le vostre dita per capirlo semplicemente recitando nel mentre la numerazione del divisore che vi viene dato. Ciao a tutti!